Di fronte al proprio pubblico non ritrova i tre punti ma gli applausi, quelli sì, il Chieti che pareggia 1-1 con il team Nuova Floridan, gol barbetta per i neroverdi, poi il calcio di rigore di Helbak Taui per la squadra laziale. Prima dell'incontro, iniziativa con la collaborazione dell'Associazione Cromosoma della Felicità con i ragazzini con sindrome di Down che accompagnano l'ingresso dei calciatori sul terreno di gioco premiazioni per due ex attaccanti neroverdi, Beccaria e Luzzi. Diverse reti realizzate con la maglia del Chieti servirebbe qualche gol anche alla squadra di Corrado Cotta contro il team Nuova Florida per far tornare l'entusiasmo dopo qualche passo falso all'Angelini. E in effetti nel corso del primo tempo il Chieti è piuttosto pimpante, qui Cesario non capitalizza una sbavatura della retroguardia laziale sistemato in coppia con Riosa e Barbetta che agisce alle loro spalle. Mentre il team Nuova Florida che qui cerca di sbloccarla con De Marchis fermato da una deviazione in calcio d'angolo si affida alle invenzioni di Calombo e di Ebba Taui. Queste le scelte di Alessandro Delgrosso ex calciatore del Chieti in serie C. Buona iniziativa dei neroverdi con il capitano Pietrantonio preciso. Il cross che pesca la testa di Riosa la squadra ha ritrovato fiducia dopo il successo con il notaresco anche se nel finale di prima frazione il team Nuova Florida sfiora il gol con Luca Moretti che si accentra e scarica una conclusione che si perde sul fondo. Risultato che si sblocca ad inizio ripresa grazie a Loris Barbetta che raccoglie l'invito delizioso di Cesario con Spina che non interviene. Nulla da fare per Andrea Giordani Chieti 1 team Nuova Florida 0 gol di Barbetta la squadra di Cotta e avanti Cesario qui prova ad approfittare del momento di sbandamento del team Nuova Florida tornano a scrosciare gli applausi all'Angelini ma la squadra ardiatina è sempre pericolosa quando si propone in avanti in questo frangente si salva come può il Chieti segnali di team Nuova Florida mentre qui tutto fermo per fuori gioco. Segnalazione che arriva prima che il pallone entri in rete Chieti fermato da Vincenzo Marra della sezione di Agropoli. Molti dubbi sulla posizione di fuori gioco di Roberto Ferrari dopo l'imbeccata di testa ad opera di salto. Il team Nuova Florida che invece può beneficiare di un calcio di rigore per questo intervento ad opera di Poletto con il braccio sinistro. Sulla schiena di Zitelli per Marra ci sono tutti gli estremi per il tiro dal dischetto dove si presenta con uno scavetto il Bactawi freddo il francese quarto gol in campionato per lui. Ma la reazione del Chieti a questo punto è rabbiosa diversi tentativi della squadra di Cotta per tornare immediatamente in vantaggio. Questo d'innocenzo poco prima del triplice fischio avrebbe l'opportunità per far tornare a ruggire l'Angelini. Buone indicazioni comunque in vista del derby con il Pineto. Il Chieti impatta 1-1 con il team Nuova Florida.